Ciao sono Zani di Turbola.it, questo è un rapido video di aggiornamento sul canale quindi se ti interessano solo la tecnologia e le criptovalute vai a vederti gli altri video che abbiamo pubblicato. Questo è un rapido video appunto per fare un annuncio, ho il piacere di comunicarvi che sono diventato advisor per il progetto Crypto Revolution Time. Ho conosciuto Crypto Revolution Time qualche settimana fa nel corso della review che abbiamo pubblicato su Turbola.it e nel video qui sul canale, mi sono piaciute moltissimo le persone che ne fanno parte e i servizi offerti, credo che la loro piattaforma offra un buon valore e quindi abbiamo avviato appunto questa collaborazione nella quale ricopro appunto il ruolo di advisor. Se quindi andiamo qui sul sito ufficiale Crypto Revolution Time.io, clicchiamo appunto sulla voce team ed ecco che dopo la lista delle persone impegnate direttamente nel progetto c'è anche il mio bruttissimo faccione con la mia mitica felpa arancione qua sotto e i link al canale e alla pagina di Turbola.it. Che cosa cambierà da qui andando avanti? Non cambierà assolutamente niente nel senso che io continuerò a svolgere il mio lavoro full time di programmatore come ho sempre fatto e continuerò nel tempo libero a fare Turbola.it sia con gli articoli testuali sul sito sia che ogni video qui su youtube. Continuerò quindi a fare anche recensioni di altre criptovalute e altri progetti legati al mondo della blockchain e a proporre anche di tanto in tanto, questa è sostanzialmente la novità, video e auto guide su Crypto Revolution Time. Ecco l'annuncio è tutto qui, non ho altro da aggiungere, non vi faccio perdere ulteriore tempo. Come al solito vi ricordo di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti per essere informato ogni volta che pubblico un video qui sul canale. Alla prossima, ciao!